Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video qui su Ivan Gamesport Oggi ragazzi siamo qui tornati con un nuovissimo video Finalmente e come ho letto dal titolo e visto dalla miniatura, dalla copertina Oggi siamo qui per andare a parlare di Castanos, il nuovo centrocampista offensivo, trequartista, falso 9 Che potrebbe giocare e giocherà con Verona Ragazzi però prima di cominciare come sempre vi dico di iscrivervi al canale, attivare la campanella Per non perdere i rossi contenuti iscrivendo, mettendo la campanella Quanto pubblico video vi spunta una filtra notifica basta premerla Siete subito qui all'interno del mio contenuto e vi raccomando ragazzi Iscrivetevi al canale, voglio vedere quel numero di iscritti salire sempre sempre di più E siamo quasi ai 300 iscritti L'obiettivo è arrivare prima della fine dell'estate Possiamo arrivarci ragazzi addirittura anche prima di ferragosto Quindi vi raccomando Vi ricordo che tutti i video riscono tutti i giorni alle ore 13 e tutti i shots Dalle 10 al 19 di sera Partiamo immediatamente, partiamo immediatamente Castanos e che aiuto può dare al Verona E soprattutto ragazzi Prenderlo o meno al fantacalcio Prima di rispondere a queste domande Vi ricordo che l'anno scorso Castanos ha giocato Non tantissimo con la Serenitana Che per retrocessa ha giocato malissimo Ha fatto pochissime vittorie eccetera eccetera Ma ragazzi Castanos è un giocatore Che comunque i suoi gol li ha fatti Sono sbagli assurati addirittura i 5 gol La scorsa stagione La stagione prima addirittura anche i 7-8 È un giocatore che segna Però deve essere messo in condizione Di poter fare la differenza nella squadra Io non lo so Onestamente se lo prenderò o meno al fantacalcio Ma prima di rispondere a questa domanda Può ripetere un po' Se Castanos può dare una mano vera e propria Vera e propria Che tu scusa Al Verona Può dare una mano vera e propria Perché ragazzi È vero Non c'è più Noslin al Verona C'è anche un nuovo attaccante Che poi faremo un contenuto a parte Ed è Moschera Però non ha esperienza in Serie A Castanos sì Ha un'esperienza in Serie A Non c'è più Michael Fodoruscio Mancano ancora alcuni giocatori Secondo me è ancora un cantiere Totalmente aperto Quello dell'Ellas Verona Però ragazzi Castanos secondo me Sulla tre quarti Sarà titolare fisso E ha un contratto fino al 2025 Il 30 giugno 2025 E potrebbe dimostrare veramente Veramente tanto I suoi gol I suoi assist di solito li fa Quindi Se vi devo rispondere alla domanda Porterà un bel aiuto All'Ellas Verona Secondo me Io vi dico di sì E sarà il titolare Secondo me Inamovibile Nella tre quarti Della Dell'Ellas Verona Assieme alla Vazzovic Saranno secondo me I due giocatori Un po' più Di spinta Per l'attacco Per la fase Anche offensiva Del Verona Però ragazzi Se vi devo rispondere alla domanda Prenderlo o meno Al fantacalcio Io vi rispondo Prenderlo Di prenderlo Io onestamente Ci proverò A prenderlo Per il semplicissimo motivo Ragazzi Che Vorrei Ho una tattica Il mio fantacalcio Che vorrei Adottare Spendendo Pochio Voglio spendere Poco Anche per il centrocamp Anche se ci sono Centrocampisti Che fanno Più degli attaccanti Però vuoi spendere Poco Per questi centrocampisti Ovviamente Se non me Castanos verrà Sottovalutato Snobbato Da tanti Fanta allenatori Però come detto Potrebbe fare Veramente la differenza Con i suoi gol E con i suoi assist Col Verona E un'altra realtà Rispetto alla Salinitana Perché la Salinitana Non aveva una squadra Da combattere Per arrivare Alla salvezza tranquilla E il Verona Onestamente Secondo me Ce l'ha Soprattutto Anche un altro fattore Ragazzi Anche Castanos È listato centrocampista Anche se gioca Praticamente Trequattista Molto molto avanzato Quasi una seconda punta Quasi un falso 9 E come l'abbiamo visto Anche l'anno scorso Con la Salinitana Giocherà Quasi nello stesso ruolo Anche con il Verona Io lo punterò A prenderla Fanta calcio Addirittura Proverò a prenderla Addirittura A un credito Prendetelo Al massimo Di 5 Barra 7 8 Crediti Al massimo 8 crediti Che secondo me Potrebbe essere Un buon colpo Come sesto Barra Anzi più che Sesto Anche settimo Slot Su 8 Del vostro centrocampo Se volete provare A prenderlo Provate ad apprendere Addirittura Uno Che secondo me Potrebbe riuscire Comunque Come colpo Io aspetterei anche un po' Di vedere un po' Le probabili formazioni Che usciranno Già dal 2 Barra 3 Agosto E secondo me Castanos sarà Titolare Titolare Fisso Però ragazzi Dobbiamo ovviamente Un po' vedere Che ruolo Gli darà Ufficialmente Non mi ricordo Chi è l'allenatore Del Verona Onestamente Però vabbè Chiunque sia Ragazzi Comunque il Verona Ha sempre Adottato una tattica Di Molto 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 Offensiva E quindi Io ci credo In Castanos Una piccola parte Del mio budget Gliela darò Sperando Che gli altri Fan d'allenatore Della mia Lega Non vadano A contraattaccare Ditemi cosa ne pensate Di questo nuovo acquisto Dell'Elas Verona Cioè Castanos Ufficiale Proprio Nella squadra Gialla E ditemi La vostra Come detto Questi altrimenti Ditemi se Voi ci punterete Noi ragazzi Ci becchiamo Un prossimo video Diretene domani Sempre qui Su Ivan che mi spot Allora i 13 E niente ragazzi Ciao ciao